Io dico sempre che lei è una persona un po' di altri tempi sotto tanti punti di vista, però ha una testa che per me è già frutto dell'intelligenza artificiale, perché per me non è umana, però ho scoperto anche una parte romantica, è una persona che fa foto a tramonti, è una persona che si commuove con le canzoni d'amore. Che bello! E quindi Maria, io credo che ci abbiamo messo un po'. Ho fatto dei disastri, però penso che uno dei propri errori debba imparare, debba maturare e crescere, e io penso che è Ena Uamaki. Che vuol dire? Io sono innamorato di lei, Maria. L'ho pronunciato bene, l'ho detto bene. Non ho sentito. Ripeti? No, no. Dai! Ena Uamaki. No, Uabuki. Ahubuki. Vabbè, faremo le lezioni, dai. C'è un po' di dice? Ahubuki. Ahubuki. Avevo anche un bigliettino. Fatemi chiedermelo, no? Dopo 12 ore, ieri in macchina. Praticamente è un colpo di fulmine. Scusa, ma tu cosa rispondi nella tua lingua a lui? Ahubuki. Anche tu sei innamorata? Sì. Grazie. 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 Grazie a tutti